Oggiorni crumento, lucidutri, o Signore, vale l'invita il tuo corpo per cuori, con miele dalla roccia, uccisanzi, o Signore, e bontà di soltezza, e il tuo sangue per noi. Oggiorni crumento, lucidutri, o Signore, e bontà di soltezza, e il tuo sangue per cuori, e il tuo sangue per cuori, Oggiorni crumento, lucidutri, o Signore, e il tuo sangue per cuori, Cari amici ben ritrovati, Oggi la liturgia ci presenta la solennità di Cristo Re, cioè contempliamo Gesù che esercita la sua regalità nel giorno del giudizio universale, separando le pecore dai capri. E' bellissimo constatare che non separa i buoni dai cattivi, né i cristiani dagli altri, teniamolo presente. Il suo giudizio verte unicamente sull'esercizio della carità, cioè sull'unico comandamento che ci ha lasciati. In sintesi, noi saremo giudicati sull'amore, non sulla appartenenza etnica o religiosa, né sulle pratiche religiose, e neanche sulla fede. Non è che tutto questo vada trascurato, no, non è questo. Però il suo giudizio è un giudizio che definirei perfettamente laico e di conseguenza universale. Quindi, aperto a tutti, e stupisce anche il fatto di vedere che tanti esclusi si meravigliano di ciò. perché? Perché credevano di essere giusti, semplicemente perché nati dalla parte giusta, quella, diciamo, dei privilegiati che pensano di essere privilegiati anche davanti a Dio. e anche gli eletti si meravigliano di essere chiamati benedetti. Perché? Perché hanno agito gratuitamente, senza secondi fini. Ecco perché questo Vangelo mi piace così tanto. Offre la salvezza a tutti coloro che lo hanno accolto. Cari amici, buon ascolto. gloria a Dio nell'alto dei cieli ed in terra pace agli uomini ed in terra pace agli uomini amati dal Signore gloria a Dio nell'alto dei cieli ed in terra pace agli uomini ed in terra pace agli uomini amati al Signore dal Vangelo secondo Matteo in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui siederà sul trono della sua gloria davanti a lui verranno radunati tutti i popoli egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra allora il Re dirà a quelli che saranno alla sua destra venite benedetti del Padre mio riceverete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare ho avuto sete e mi avete dato da bere ero straniero e mi avete accolto nudo e mi avete vestito malato e mi avete visitato ero in carcere e siete venuti a trovarmi allora i giusti gli risponderanno signore quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare ho assetato e ti abbiamo dato da bere quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto o nudo e ti abbiamo vestito quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti e il Re risponderà loro in verità io vi dico tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra via lontano da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare ho avuto sete e non mi avete dato da bere ero straniero e non mi avete accolto nudo e non mi avete vestito malato e in carcere e non mi avete visitato anch'essi allora e allora risponderanno signore quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito allora egli risponderà loro in verità io vi dico tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me e se ne andranno questi a supplizio eterno i giusti invece alla vita eterna eterna e in carcere o in carcere o in carcere La parabola di oggi incute paura e terrore perché Dio sembra esigente, sembra fiscale. Sembra che Dio abbia un grande libro di conti e alla fine della vita, nel giorno del grande giudizio, tiri le somme. Se le azioni negative sono superiori a quelle positive, inferno eterno. Se invece sono superiori a quelle positive, paradiso eterno. La Chiesa aveva anche usato, diciamo così, una bella pubblicità a sostegno di questa idea. L'occhio di Dio, qualcuno di voi lo ricorderà. Dio vede tutto, diciamo questa pubblicità. E in molte Chiese si può vedere ancora oggi l'occhio di Dio all'interno di un triangolo che era la Trinità. Il suo occhio ti controlla, vede e sa tutto. Quindi a lui scappa nulla, a lui nulla sfugge. E qualunque malefatta che tu fai, sappi che un giorno ti sarà rinfacciata. Qui Dio sembra un po' il grande fratello che vede tutto. Ma un Dio così è un Dio controllore, nemico della vita. E soprattutto non è un Dio evangelico. Non è ciò che Gesù ci ha insegnato. Dobbiamo tenerlo presente questo. D'altronde, se tu prendi in mano la Bibbia di Gerusalemme, ossia, leggi come titolo di oggi il giudizio finale. E nel giudizio finale, quindi, Dio ti punisce, punisce alcuni e premie degli altri. Ma attenzione, perché i titoletti che ci sono nelle nostre Bibbie li abbiamo messi noi e non li ha messi Gesù. Sono utilissimi, senz'altro per capire in quale argomento siamo entrati, ma alcune volte fuorvianti, proprio come il caso di oggi. La parabola inizia dicendo Quando il figlio dell'uomo verrà e siamo al capitolo 25esimo di Matteo al versetto 31. Noi attribuiamo a Dio molti titoli. Per esempio, Signore, il Figlio di Dio, l'Agnello di Dio, il Salvatore, eccetera. Ma che cosa dice di sé Gesù? Quando Gesù parla di sé, avete fatto attenzione, usa sempre questo termine a noi poco familiare, cioè noi non diamo importanza. Usa il termine il figlio dell'uomo. Ed è un titolo proprio che pochissimi, pochissimi, ecco, di noi attribuiscono Gesù. Ed è strano, è un po' singolare, visto che lui parla di sé sempre così. Che cosa vuol dire figlio dell'uomo? Il figlio dell'uomo è l'uomo che ha realizzato il progetto di Dio. Teniamolo presente come linea di fondo. Il figlio dell'uomo è l'uomo che ha realizzato il progetto di Dio. Gesù nel battesimo ha accolto e accettato la missione che Dio gli aveva dato e l'ha vissuto fino in fondo. Quindi, figlio dell'uomo è la persona che accoglie lo spirito di Dio e poi lo vive nella propria vita. Chiunque di noi può essere figlio dell'uomo. Anzi, tutti lo dovremmo essere. Tutti dovremmo accogliere il piano, il progetto di Dio su di noi che è nient'altro il motivo per cui ci siamo ed esistiamo. che ci sia un progetto su di me vuol dire che la mia esistenza ha un significato importante. Cioè, non sono qui a caso, sono qui per uno scopo, sono qui per un motivo ed è questo questo che noi dobbiamo ricuperare il senso della nostra vocazione. C'è un destino, una chiamata, una missione che si chiama. Noi vediamo spesso le persone tristi, depresse, senza vitalità, senza voglia di vivere. perché? Perché non hanno motivi validi, forti, ragionevoli per vivere. Ma quando si sa il perché ci si è irresistibili. Quando il figlio dell'uomo verrà, poi continua Gesù, con tutti i suoi angeli. Matteo, capitolo 25, versetto 31. Quando noi pensiamo all'angelo, dentro di noi ci raffiguriamo una creatura con le ali, eh? Ma l'angelo, anghello, che vuol dire annunciare, non ha niente a che vedere con questo. Angelo è solamente tutto ciò, persone, incontri, fatti, eventi, eventi, situazioni, sogni, incidenti, sorprese, eccetera, che Dio ci manda. Dio ci manda perché possiamo seguire la nostra strada, possiamo seguire veramente la sua chiamata. la sua chiamata. Hai mai incontrato un angelo? No. Se pensi all'essere angelico con le ali, io non l'ho mai incontrato. Hai mai incontrato un angelo? sei tantissime volte, se sai chi è. Insomma, l'angelo, l'angelo vuol farti un uomo e una donna migliore. Io vivo nella paura, nel terrore di scegliere, di osare, di mettermi in gioco, di guardarmi dentro, non sfruttando le mie diciamo potenzialità e la riserva di amore, di bontà, di doti, di generosità, di simpatia, di vitalità che ho dentro. Insomma, io vivo sulla difensiva e non sfruttando il patrimonio che Dio mi ha dato. Allora, allora arriva un angelo che mi mostra che posso essere migliore. Posso osare, scegliere, smettere di vivere così e volare. Chi ti ama non vede ciò che sei ma ti mostra ciò che puoi essere. Ricordiamo anche questo, eh? L'angelo è proprio questo. quindi quando il figlio dell'uomo verrà con i suoi angeli vuol dire con tutti quelli che vivono realizzando sulla loro vita il loro progetto di Dio. e cosa fa il figlio dell'uomo? Continua il Vangelo sempre lo stesso capitolo versetto 31 si siede sul trono della gloria molto bello questa ecco questo modo di esprimersi cos'è il trono della gloria? era un modo per definire il tempio tempio cioè dove Dio stava sappiamo che a Gerusalemme c'è il tempio e Dio abitava solo in quel tempio il trono dove Dio riscedeva nella sua gloria nel suo splendore era dicevano gli ebrei il tempio ma cosa succedeva? che al tempio ci potevano andare solo i puri i peccatori gli altri no e questo diciamo è un fatto diciamo su cui Gesù combatterà contro questo fatto ma adesso appunto il trono della gloria il trono della gloria non è più un luogo il tempio ma è una persona è Gesù stesso Dio non risiede più in un luogo ma nelle persone in chi lo ama e lo accoglie e saranno riuniti davanti a lui tutte le nazioni Matteo capitolo venticinquesimo versetto 32 Nazioni Nazioni è etne cosa fanno i Vangeli? quando devono parlare di Israele notiamo la distinzione non sono sottigliezze quando devono parlare di Israele usano la parola laos uguale popolo anche qui si parla di un popolo ma non si usa questo termine si usa la parola etne infatti quando si parla di etne si intende sempre i pagani se noi prendiamo il Vangelo di Matteo amici troviamo che il giudizio per Israele c'è già stato infatti in Matteo capitolo diciannovesimo versetto 28 si dice voi che mi avete seguito nella nuova creazione quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria sederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele questo è il giudizio per Israele che però non ha accolto il messaggio di Gesù qui invece nel Vangelo di oggi si parla di pagani di tutti quelli cioè che non hanno mai conosciuto Gesù che non hanno mai sentito parlare o che magari lo hanno richiutato perché gli è stato presentato Dio in maniera erronea in maniera distorta quindi non è un giudizio universale ma solamente l'Evangelista che si pone la domanda notate bene quello che sto dicendo è l'Evangelista che si pone la domanda cosa succede per tutti quelli che non hanno conosciuto il messaggio di Gesù questa è la domanda importante domanda importante Matteo si rifà alla pratica dei pastori che la sera quando si era da una igregge separavano i capri dalle pecore per poi procedere all'operazione della mungitura e qui cosa fa il re secondo la parabola di Matteo cosa fa il re mette le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra perché la sinistra da sempre è stata vista come la parte negativa ancora oggi ed operiamo il termine sinistro io mi ricordo quando facevo le scuole elementari se eri mancino ti costringevano a scrivere con la destra perché si diceva era la mano del diavolo a sinistra ma era solamente una stupida credenza quindi per la mentalità del tempo sinistro uguale negativo destro uguale positivo allora il re dirà quelli che stanno alla sua destra venite benedetti dal padre mio ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo noi abbiamo l'idea che Dio scriva tutto nel suo grande librone il Talmud stesso un libro ebraico del tempo diceva che tutte le infrazioni vengono scritte su un libro ma Gesù non ha bisogno di nessun libro per separare gli uni dagli altri Gesù lo vede e da che cosa lo vede lo vede se una persona è riuscita nella vita o no Matteo capitolo 13 47 50 racconta la parabola della rete che tutti conosciamo il regno di Dio è come un pescatore che getta la rete e tira su pesci buoni e pesci marci e non cattivi non pesci cattivi come a volte erroneamente viene tradotto quelli che vengono eliminati non è perché sono cattivi per un giudizio morale ma perché perché sono marci lo si vede non c'è la vita la vitalità sono morti sono marci per questo è costretto a buttarle via Matteo capitolo dodicesimo al versetto 33 dice se prendete un albero buono anche il suo frutto sarà buono se prendete un albero cattivo anche il suo frutto sarà cattivo dal frutto si conosce l'albero si vede e basta guardare non ci vuole un grande esperto è per vedere che la frutta è marcia che la frutta non è buona ebbene amici chi nella vita riesce secondo il senso di Dio si vede le sue parole parlano di amore di compassione di tenerezza i suoi gesti sono rispettosi non aggressivi e attenti il suo volto è pieno di felicità e di luce Dio vede Dio vede quindi non gli serve nessun libro e dice venite benedetti dal padre mio ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo qual era il progetto di Dio fin dalla creazione del mondo fin dall'inizio che gli uomini avessero la sua stessa condizione divina immagine e somiglianza andiamo al libro della Genesi al capitolo primo versetto 26 facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza ma cosa hanno fatto questi benedetti per avere il regno perché hanno il regno sei azioni sei avevo fame c'è uno che ha bisogno e tu te ne accorgi la fame di pane di ascolto di tenderezza di comprensione di essere riconosciuti stimati e valorizzati vedi vedi uno che ha fame tu lo vedi uno che ha fame gli dai il pane ma non serve la Bibbia per fare questo basta avere un cuore basta conoscere l'amore questo dobbiamo tenerlo presente avevo sete il dare da bere era in quella mentalità simbolo di accoglienza dare vita vedi uno che ha bisogno di te della tua accoglienza tu puoi dargliela gliela dai è normale per chi ama tutto questo è questione di sensibilità ero forestiero straniero Matteo capitolo venticinquesimo versetto 35 un discorso che merita di essere sottolineato lo straniero in tutta la cultura ha messo sempre paura lo straniero è tutto ciò che non è come me dobbiamo anche ricordare che se noi andiamo da altre parti siamo anche noi stranieri un modo nuovo di pensare la vita Dio un modo nuovo di fare di parlare di rapportarsi un modo nuovo di vestire di concepire i rapporti e la prima cosa che diciamo è no ma è un no solo perché non è come noi ma nei Vangeli gli stranieri stranieri nel Vangelo sono i pagani le donne i pubblicani gli ultimi i lebrosi tutti esclusi dagli ebrei ecco non sono mai quelli che tolgono qualcosa ma sono sempre quelli che portano quello che quelli che arricchiscono quindi l'accoglienza dello straniero non è una perdita ma è una ricchezza qui c'è bisogno di conversione forse nudo Matteo 25 36 versetto chi è nudo è esposto al pubblico ludibrio al giudizio alla vergogna nei Vangeli i giusti epifarisei scrivi dottori si permettevano di giudicare di condannare di mettere la berlina i peccatori e pensate all'adultera in Giovanni l'angelo di Giovanni capitolo ottavo versetti 1-11 Gesù invece difende prendere parti di questa gente quando uno è vulnerabile quando uno è indifeso è da miseri da ignobili ferirlo sottolineiamo malato lo stesso capitolo di Matteo versetto 36 il malato ha bisogno di aiuto di sostegno di cura Gesù Gesù andava dalle persone e le vedeva tutte come malate bisognose di guarigione i sapienti invece le giudicavano un'adultera una malata d'amore per Gesù per i sapientoni una prostituta un pubblicano un malato di riconoscimento quindi anche i soldi come compensazione è per i sapientoni un peccatore un lebroso un malato di contatto e di pelle per i sapientoni un maledetto da Dio carcerato a quel tempo il carcerato era considerato uno che era giustamente punito non faceva affatto compassione e quando Gesù dice carcerato e siete venuti da me non significa soltanto così una visita di conforto i carcerati non stavano in carcere mantenuti dai carcerieri ma dovevano essere i familiari o gli amici che dovevano provvedere al sostentamento del carcerato altrimenti il carcerato moriva di fame quindi andare a trovare il carcerato non significa soltanto fare una visita di conforto ma portargli da mangiare per mantenerlo in vita se non lo andavi a trovare nel senso di portargli da mangiare moriva ma cosa ma cosa sono tutti questi sono dei bisogni degli uomini amore dice Gesù e prendersi cura di questi bisogni ma questa è una rivoluzione cosa diceva infatti la legge ebraica nel Talmud si legge testuali parole nell'aldilà il santo che benedetto sia prenderà un rotolo della legge se lo poserà sulle sue ginocchia e dirà chi se ne è occupato venga e riceverà la sua ricompensa queste sono diciamo si legge nel Talmud Gesù dice non è l'osservanza non è il comandamento ma l'amore che ti fa vivere oggi e domani allora i giusti gli risponderanno signore quando mai quando mai ti abbiamo veduto così affamato Matteo capitolo 25 versetto 37 e Gesù parole bellissime ogni volta che avete fatto questo a uno dei miei fratelli più piccoli Matteo capitolo 25 versetto 40 notiamo non è una sottigliezza ma è importante questo Gesù non dice quando ami uno lo fai per me ma quando ami uno ami me ci sono persone che devono amare gli altri perché lo ha comandato Gesù si sente dire un po' questo e Gesù ha detto di fare così quindi no ma si deve amare gli altri se si deve amare gli altri lo si fa per dovere in questo caso senza alcun sentimento è per costrizione l'amore non si comanda l'amore si sente quindi non si fanno le cose come spesso sentiamo dire per carità cristiana si fanno perché nascono dal cuore e qui amare uno perché ci è comandato è svidente non ti amo ma lo faccio perché me lo comandano con Gesù le cose non si fanno per Dio ma con Dio e come Dio un giorno porto solo un esempio di madre Teresa perché ce ne sono tanti un giorno chiesero a madre Teresa perché lo fai e si aspettavano come risposta per Dio e invece lei sorridendo disse per amore cioè per Dio ripresero no no per amore perché la sua sofferenza tocca il mio cuore quindi non si ama l'altro perché Dio lo comanda ma perché ci tocca il cuore perché ci tocca l'anima e se Dio non ci fosse chiese una volta sempre madre Teresa no non ho amato per Dio ho amato per amore chi mi stava davanti e siccome nell'uomo c'è Dio amando il fratello lei amava anche Dio e poi concluse non so mai se chi dice di amare Dio lo ami davvero ma so che chi ama l'uomo lo sappia o no ama Dio ecco su madre Teresa santa madre Teresa di Cercuto si possono trovare tanti esempi di questo tipo poi il re dirà a quelli alla sua sinistra via lontano da me maledetti Matteo capitolo venticinquesimo versetto quarantuno notate prima aveva detto venite benedetti dal padre mio qui invece non si dice maledetti dal padre mio ma solo maledetti e da chi sono maledetti non certo da Dio si sono maledetti da se stessi nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli Matteo capitolo venticinquesimo versetto quarantuno il fuoco che qui come ho già detto anche altre volte il fuoco in questo caso questa parabola non è l'inferno dove si finisce arrostiti Gesù prende un'immagine del suo tempo a quel tempo c'era la Geenna nella valle di dell'Innon che era l'immundezaio di Gerusalemme lì era sempre il fuoco perché venivano bruciati tutti i rifiuti Gesù dice quelli che collaborano per l'amore i benedetti avranno ciò che vorranno l'amore e quelli che collaborano per distruggere avranno ciò che vorranno la distruzione ognuno avrà ciò che vorrà questo è da sottolineare e anche Gesù sa che ci sono gli angeli del diavolo quelli che distruggono invece di costruire perché finiscono lì semplice si sono chiuse di fronte ai bisogni delle persone non sono state in grado di fornire amore ma hanno pensato solamente se stesse allora essi diranno quando mai ma osservate la risposta è frattorosa sbrigativa i benedetti quando li abbiamo visto affamato quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare i maledetti quando ti abbiamo visto affamato e basta la risposta è breve perché loro non si sono proprio accorti di chi era bisognoso erano troppo presi da sé e osserviamo e non ti abbiamo assistito Matteo capitolo venticinquesimo versetto 44 assistito assistito letteralmente è diaconeo che vuol che vuol dire servire il diacono era la persona nella comunità cristiana che serviva che faceva che si occupava degli altri allora Matteo dice state attenti perché non si può essere diaconi cristiani ed essere maledetti senza cuore e i diaconi i cristiani potrebbero dire ma noi ti abbiamo servito e lui dirà no voi no non mi avete servito questa è la sentenza finale e se ne andranno questi alla mutilazione eterna e i giusti alla vita eterna ecco questa sembra una punizione se la diciamo così ma non lo è la parola supplizio viene dal greco kolasis ed è un verbo che vuol dire potare recidere mutilare colazzo allora c'era un progetto ma è stato tagliato reciso non è cresciuto non si è sviluppato è qui e tutto quel problema è proprio solo questo non si è sviluppato il diciamo il progetto proprio proprio per mancanza di sensibilità cioè la vita dentro di sé non si è sviluppata è cresciuta per cui non sono stati in grado di darla quanto c'è da esaminare su questo il Vangelo conosce due termini due termini che già tre volte li ho citati la bios e la zoe la bios è la vita fisica si nasce parabola ascendente e poi discendente fino a morire la zoe è la vita psichica interiore la vitalità questa non smette mai di crescere e di svilupparsi cosa dice Gesù allora qui se tu tagli recidi la tua zoe la tua vitalità se tu non fai crescere l'amore che c'è in te se tu non diventi più maturo e adulto tu ti condanni a morire e chi è morto non può dare vita non è il re che li condanna quindi ma sono essi stessi che si sono condannati cosa dice a noi questo Vangelo amici concludendo quando ti abbiamo veduto ecco quando ti abbiamo veduto amici bisogna avere il cuore per vedere la gente dice io non faccio niente di male faccio di male a nessuno quante persone quando vengono magari per le confessioni mi tanto io faccio del male a nessuno forse 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 dici così solo perché non ti accorgi quando tu sei preso quando tu sei preso da te e dai tuoi bisogni non puoi proprio vederli quelli degli altri amici esaminiamoci su questo perché sei troppo preso dalla pressione dei tuoi bisogni interni se vedi solo te non vedrai nessun altro chiaro allora ci vuole cuore certo ci vuole cuore per vedere i bisogni degli altri e per non vedere solo se stessi amici il grande pericolo è di fare come quelli della sinistra ma quando mai noi ma impossibile e invece proprio nella tua insensibilità non ti se neppure accorto di chi ti stava vicino qui se ne è per tutti da esaminare per tutti e se c'è qualcuno che ha bisogno siediti accanto a lui e ascolti il suo bisogno quando c'è un bisogno dentro o fuori di te bisogna ascoltarlo bisogna ascoltarlo termino con un esempio un patto venuto Irene Sandler morta nel 2008 è una cattolica che vive viveva a Varsavia la sua storia è stata scoperta solo nel 1999 ecco si dice che c'è un bisogno impellente per far uscire dal ghetto di Varsavia tutti i bambini che si possono far uscire Irena riesce ad ottenere il permesso di lavorare come idraulica specialista entrava nel ghetto con il suo camion e metteva nella borsa degli attrezzi tutti i neonati nascondendole nel fondo della sua cassetta i più grandi dentro un sacco di iuta e nel suo camion teneva un cane ben addestrato che ben addestrato da baiare infelocito quando i soldati nazisti entravano nel ghetto i soldati tenevano il cane e il suo latrato copriva il pianto dei bambini fu catturata dai nazisti Irena e selvaggemente picchiata le ruppero le gambe le mani ma non confessò nulla ne salvò 2500 perché amici lei ha saputo ascoltare cari amici buona domenica e buona conclusione dell'anno liturgico ciao ciao chiede oh signore pane di vita il tuo corpo per tuoi con lieve dalla roccia uccisanzi oh signore e buona e buona di solvenza il tuo sangue per tuoi e buona e buona e buona